Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento che affaccia sul piazza della Vittoria. Questo appartamento è stato completamente ristrutturato e ha tre camere da letto, porta blindata che è sempre molto comodo, poi si entra in questo corridoio che avete visto, qua c'è subito il bagno, bagno con la doccia mentre invece la lavatrice ce l'abbiamo qua dietro. Questa qua è la lavatrice che in ogni caso per studenti è essenziale. Perfetto. E adesso andiamo a vedere la zona giorno. La zona giorno è questa ampia cucina, un'ampia cucina abitabile con mobili tutti nuovi, poi ovviamente gli oggetti personali verranno portati via, quindi immaginatevela pulita e vuota. Poi aria condizionata che qua a Pavia è indispensabile perché fa caldo, quindi l'aria condizionata deve esserci di fisso. Adesso andiamo a vedere le camere da letto. Questa qua è la prima camera da letto che affaccia su piazza della Vittoria. Una camera da letto che è stata predisposta con due letti, gli armadi per ai vestiti e le scrivanie. Infatti qua c'è una scrivania, qua c'è l'altra scrivania e di qua c'è l'altro armadio. Ok? Poi abbiamo questa finestra, i vetri sono vetri doppi, la finestra da su piazza della Vittoria. Quello lì è il broletto e poi abbiamo anche le zanzariere. Poi ce l'apriamo un attimino, se riesco a capire. Infatti qua vedete l'orologio del broletto e tutta piazza della Vittoria. Ok, adesso andiamo a dare un'occhiata alle altre camere da letto. Siamo tornati nel soggiorno, andiamo a vedere le ultime due camere da letto che sono anche loro camere da letto matrimoniali. Ok? Camera da letto matrimoniale, questa qua è la prima che dà verso il Duomo. Infatti di qui, se vedete, c'è la cupola. Ok? Quindi se siete fans, diciamo, della domenica per andare in chiesa, ce l'avete poi vicino. Avete la chiesa più grande di Pavia. Ed infine, ultima camera da letto che è questa. Anche lei è camera da letto matrimoniale, completamente nuova, ristrutturate e anche lei da su piazza della Vittoria.